Ciao ragazzi, vi faccio vedere brevemente questo rinforzo che ho fatto per il Dascom G6 si stava scollando nella parte qua alta, invece di rinforzare tutto ho messo un celotto solo qua ma per far sì che il celotto attaccasse al meglio l'avevo già fatto prima ancora con il Dascom G6 stesso questi sono molti giorni che c'è oggi con l'acqua si stava staccando un angoletto ho spruzzato una sostanza, adesso vi faccio vedere la sostanza che ho spruzzato si chiama tenso spray presa su Amazon che a volte lo spruzzo direttamente a 20 cm di distanza, se no a volte se devo fare una zona voglio che non vai in giro la puzza uso questo qua per delimitare l'aria nel quale spruzzate faccio così se no lo spruzzo direttamente tenendola a 20 cm in questo modo il celotto attaccherà molto molto più forte ecco, mentre il celotto ultimamente sto preferendo questi qua telati in particolare questo si chiama IPA fix 10 cm x 10 cm questi qua sto preferendo questi per il motivo che se si va al mare o in piscina una volta usciti dal mare o dalla piscina si asciugano invece quelli in pellicola se per caso si infiltra una piccola quantità d'acqua dopo di che non riesce a fuori uscire invece qua una volta usciti dalla piscina si asciuga e quindi si è attaccato e rimane attaccato bene allora in questo caso vedete avevo provato a fare un celotto totale però al volo l'avevo fatto male perché era venuto troppo largo non prendeva bene allora ho deciso di utilizzare solo un pezzettino la prossima volta se mi si scolla un altro pezzetto prenderò un altro rettangolino e magari rinforzo solo a destra o a sinistra o a secondo di dove si sta scollando perché prima li rinforzavo sin da subito tutti e secondo me sbagliavo perché il Dyscom G6 se viene rinforzato io lo rinforzo così quando ci sta di mezzo il mare in questi giorni quando si viene rinforzato o la pelle è ben sgrassata già dura i primi giorni senza bisogno di nessun problema poi se si insiste con tanto mare e tanta cosa allora magari uno lo rinforza solo gli ultimi tre giorni gli ultimi quattro, gli ultimi due e quindi magari ti fai i primi giorni con meno roba addosso allora al momento sto rinforzando così Tenso Spray e IpaFix